Buonasera, buonasera a tutti, benvenuto a questo webinar relativo alle norme di riferimento per quanto riguarda il sistema di intrusione. Io sono Dario Necchi, faccio parte della formazione tecnica di Bticino e vi intratterrò per questa oretta circa relativamente a questo argomento. La mia intenzione è far presente o meglio evidenziare alcuni aspetti delle norme di riferimento relativamente a quest'ambito che sono importanti e dovrebbero essere seguite per chi deciderà di seguire le norme di riferimento per i sistemi anti-intrusione. Una brevissima nota di premessa. Dati del Ministero degli Interni, quindi dati ufficiali. L'anno scorso circa 214.000 abitazioni sono state visitate dai ladri. Teniamo presente come al solito che questi dati sono quelli ufficiali, chiaramente, cioè relativi agli eventi dove poi naturalmente è seguita una denuncia. Quindi in realtà non sappiamo se questo numero è vero, ma ragionevolmente bisognerebbe ragionare con numeri decisamente superiori. Quindi è un numero molto elevato, anche se, bisogna dire la verità, questi numeri sono fortunatamente in leggera controtendenza. Ripeto, però stiamo parlando della criminalità cosiddetta emersa. Ecco, eppure degli studi, degli studi piuttosto autorevoli, dicono che in Italia nell'80% dei casi la decisione di prevedere un impianto di allarme avviene solo dopo aver subito il furto. E questo purtroppo è un classico. Si tende normalmente a sottovalutare e conseguentemente si corre ai ripari quando ormai i buoi sono scappati. Le norme di riferimento, veniamo subito al nocciolo dell'ambito dei sistemi di allarme, sono diverse. Io vi indico quelle principali, quelle da cui tra l'altro solo alcune tra loro attingerò per darvi le informazioni che adesso seguiranno. Però, come potete vedere, in fondo l'ultima non è una norma, è un decreto. Un decreto che tutti gli addetti al settore impiantistico dovrebbero conoscere, perché è il regolamento che riguarda appunto l'installazione di impianti all'interno degli edifici. Il decreto 37 del 2008. Perché parto da questo? Perché iniziamo a capire innanzitutto come vengono visti gli impianti di allarme. Ora, io direi che non ci sono molti dubbi come ambito di applicazione nel riconoscere gli impianti di allarme come impianti elettronici in genere, quindi quelli classificati secondo la lettera B del comma 2 dell'articolo numero 1. Quindi questo vuol dire che chi installa impianti di questo genere deve essere qualificato, riconosciuto per questo tipo di applicazione. Detto questo, cerchiamo anche di capire se gli impianti di allarme hanno bisogno di essere progettati. Benissimo, anche qui direi che non ci sono molti dubbi, in quanto l'obbligo per quanto riguarda gli impianti elettronici in genere sussiste quando essi coesistono con gli impianti elettrici che hanno a loro volta obbligo di progettazione. Quindi facciamo un altro passo indietro, vediamo quando gli impianti elettrici hanno l'obbligo di progettazione, il che vuol dire appunto che anche gli impianti elettronici dovrebbero essere progettati. L'obbligo di progettazione per gli impianti elettrici sussiste quando nelle utenze condominali o domestiche di singole unità abitative la potenza impegnata è superiore ai 6 kilowatt, oppure quando sempre le utenze delle singole unità abitative superano i 400 metri quadri di superficie, oppure quando gli impianti sono realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, oppure quando parliamo di immobili adibiti ad attività produttive, commercio, terziario e altri usi, le utenze siano limitate alimentate a tensione superiore ai 1000 volt, oppure se alimentate in bassa tensione con potenza superiore ai 6 kilowatt o con superficie superiore ai 200 metri quadri. Mi verrebbe da dire che per quanto riguarda quest'ultimo paragrafo, quindi immobili adibiti ad attività produttive eccetera, direi che l'obbligo di progettazione è sicuramente molto frequente, perché è difficile trovare utenze alimentate in bassa tensione con potenza inferiore ai 6 kilowatt o con superficie inferiore ai 200 metri quadri, questa è la mia considerazione. Se parliamo invece di utenze domestiche, beh oddio, superiore ai 400 metri quadri non è così banale, ma superiore ai 6 kilowatt invece secondo me è abbastanza frequente, se parliamo generalmente di villette è abbastanza facile trovare questa situazione. Quindi vedete che l'obbligo di progettazione per un impianto di intrusione, tutto sommato, è più frequente di quello che in realtà si possa in genere pensare. Adesso entriamo nel merito della normativa che riguardano i sistemi di allarme e iniziamo dalla CIN 50 131-1. Questa norma è stata rivista nel corso degli anni, l'ultima edizione risale al 2012. Innanzitutto quella sigla N ci suggerisce che è una norma di derivazione europea, quindi con obbligo di recepimento da parte degli stati membri. Questa norma, essendo di derivazione europea, ovviamente viene pubblicata in inglese e ha poi la sua traduzione in italiano, però tutte le sigle che troveremo nelle varie tabelle che vi presenterò sono sigle che si riferiscono a degli acronimi comunque in inglese. Quindi non preoccupiamoci se non riusciremo a intuire quello che è il loro significato perché il motivo è esattamente questo. Bene, allora iniziamo col dire che questa norma descrive le prescrizioni del sistema antiintrusione. Riguarda prevalentemente i costruttori, mi verrebbe da dire, però ciò non toglie che anche chi poi si trova a progettare e a installare questi sistemi deve essere a conoscenza di alcune informazioni. Vuoi per non chiedere cose inesatte, vuoi per sapere anche interpretare certe informazioni. Allora ci sono due informazioni, mi avviso in particolare, che chi progetta, installa deve assolutamente conoscere. La prima riguarda le classi ambientali, la seconda riguarda i gradi di sicurezza delle apparecchiature. Iniziamo dalle classi ambientali. Normalmente quando parliamo di impianti elettrici siamo abituati a trovare dei parametri che identificano dove il nostro componente può essere installato, ma questi parametri normalmente sono relativi al grado di protezione IP piuttosto che alla temperatura di installazione, a cui ammessa l'installazione. Bene, se parliamo di sistemi antiintrusione noi non troveremo questi dati. normalmente troveremo la classificazione secondo la classe ambientale, esattamente come ce la chiede la norma. Quindi classe ambientale 1 piuttosto che 2, 3 o 4. Dietro questa definizione, questa descrizione, di fatto ci sono poi i parametri che vi accennavo prima. Quindi, per esempio, se trovassimo un componente classificato per la classe ambientale 2, dobbiamo interpretare che normalmente questo componente deve essere previsto in ambienti chiusi quando la temperatura può non essere ben controllata, ad esempio corridoi, scale, eccetera, dove sì si può formare condensa, ma la temperatura comunque è compresa tra i meno 10 più 40. Ergo, un componente del genere bisognerebbe verificare bene se installarlo all'aperto, per esempio. Quindi diciamo che non troveremo indicazioni come normalmente siamo portati a trovare per i componenti elettrici, ma dietro a questa descrizione di fatto ci stanno ancora questi parametri. Gradi di sicurezza. La norma dice che a un sistema di allarme deve essere assegnato un grado di sicurezza che ne definisce le prestazioni. I gradi sono 4, dove 1 è il più basso e 4 è il più elevato. Un po' come si fa per il grado IP per i componenti elettrici, normalmente il sistema assume il grado del componente di grado più basso. Quindi se utilizzo tutti i componenti di grado 3, ma uno solo è di grado 2, l'intero sistema sarà di grado 2. Ora, cosa vuol dire grado di sicurezza? Queste sono le descrizioni che vengono esattamente riportate nella norma. Grado 1 rischio basso, grado 2 rischio medio basso, grado 3 medio alto, grado 4 alto. Ora, vediamo di leggerne un paio a caso, quella del grado 2 e del grado 3. Partiamo dal grado 2. Si prevede che gli intrusi o i rapinatori abbiano una conoscenza limitata dei sistemi di allarme e utilizzino una gamma generica di utensili e strumenti portatili. Grado 3. Si prevede che gli intrusi o i rapinatori siano pratici dei sistemi di allarme e dispongano di una gamma completa di strumenti e di apparati elettronici portatili, e via così. Insomma, sembra quasi che la scelta del grado di sicurezza dipenda dalle capacità del ladro. Ora, al di là della battuta, evidentemente si presume che un ladro che abbia determinate capacità e conoscenze, piuttosto che attrezzature, sia portato ad andare a operare dove c'è una refurtiva, che ovviamente merita più attenzione. Quindi questo è un po' il ragionamento che va fatto. Poi, quali sono i criteri per i quali andare a scegliere un certo grado piuttosto che un altro? In realtà non c'è soltanto il valore della refurtiva, diciamo così, o della potenziale refurtiva, ma ci sono anche tutta una serie di altre considerazioni e parametri che vedremo più avanti. Ora, la norma CIN 50131-1 identifica anche tutta una serie di caratteristiche che i componenti devono avere e che naturalmente i costruttori devono rispettare, che io adesso vi elencherò con lo scopo di conoscere naturalmente queste caratteristiche, ma anche di sapere che cosa va effettivamente applicato. Mi spiego meglio. Molto spesso ci viene richiesto, viene richiesto ai costruttori, che certi parametri vengano impostati in un certo modo. Naturalmente il sistema, probabilmente quei parametri li potrà accogliere. Ciò non toglie che nel momento in cui si deroga da quelle che sono alcune richieste normative, il sistema non potrà poi più essere classificato adeguato e coerente secondo le norme. Quindi è giusto sapere cosa in realtà noi dovremmo fare. Allora, la norma parla di gradi di sicurezza dell'impianto, e questa è una cosa, quindi le caratteristiche dell'intero impianto, ma parla ad esempio anche di livelli di accesso, ovvero quali sono le prestazioni, le funzioni che sono accessibili a seconda dei livelli della persona che vuole operare sull'impianto. Per esempio, si dice che certe funzioni appartengono al livello 1 se l'accesso è consentito da parte di qualsiasi persona, non necessariamente chi deve gestire l'impianto, da parte di qualsiasi persona. Livello 2, accesso da parte dell'utilizzatore dell'impianto, ovvero da parte del cliente, di chi abita quell'appartamento, in parole povere, e queste funzioni naturalmente potranno influenzare lo stato operativo, ma per stato operativo si intende il fatto di poter usare l'impianto senza poterne cambiare la configurazione. Poi adesso faremo anche qualche esempio, chiaramente. Livello 3, ecco questo accesso è consentito da parte di personale addestrato o qualificato come l'installatore. In questo caso, queste persone avranno accesso alle funzioni che hanno effetto sulla configurazione dell'impianto. Livello 4, questo sarà possibile da parte di utilizzatori altamente specializzati, per esempio coloro che hanno costruito le apparecchiature che appartengono a quell'impianto. Quindi è chiaro che questo accesso è ammesso solo qualora si voglia poter modificare l'apparecchiatura stessa, non le funzioni ma l'apparecchiatura stessa. Per esempio, proviamo a vedere il livello di accesso numero 2, cioè quello che è consentito a chi utilizza l'impianto. La P sta per funzione permessa, la P non permessa. Allora proviamo ad evidenziarne una. L'aggiunta o la variazione di codici di autorizzazione individuali è permessa al livello 2, ma solo relativamente al proprio codice. L'aggiunta o l'eliminazione di utilizzatori e di codici, sempre di livello 2, non è permessa da parte degli utilizzatori, ma può essere permessa solo da parte dell'installatore. Questa è un po' l'interpretazione di questa tabella. Quindi chi utilizza l'impianto può inserirlo, può disinserirlo, può ripristinarlo, nel senso dopo un allarme, può verificarne le funzioni, può interrogarne gli eventi, può forzare o inibire determinate funzioni, che so per esempio mi viene in mente il poter escludere un sensore per esempio, ma da qui in poi per esempio non può aggiungere dei codici, non può variare i dati dell'impianto, addirittura non può assolutamente variare il programma di base. Quindi se il cliente ci dovesse chiedere queste cose e noi volessimo realizzare l'impianto secondo le norme, questi sono gli obblighi a cui dobbiamo sottostare. Attenzione tra l'altro, sempre secondo le norme, l'accesso ai livelli 3 e 4 deve essere impedito sino a che non sia stato consentito da parte dell'utilizzatore di livello 2, cioè tutte le funzioni, facciamo un passo indietro, relativamente al livello 3, per esempio l'aggiunta all'eliminazione di utilizzatori e codici di livello 2 è certo che è permessa sempre che se autorizzati dal livello precedente. Così come l'accesso ai livelli 2, 3 e 4 può essere anche effettuato a distanza, sempre che sia autorizzato tramite determinati metodi o determinati parametri come quelli che vengono indicati nella tabella che tra poco vi presenterò. Per esempio, se volessi accedere tramite delle chiavi logiche, banalmente dei codici, queste chiavi logiche devono essere almeno numericamente 10.000 come varianti, ovvero costituite almeno da 5 cifre. Questo vuol dire, facendo un passo indietro, che se io volessi accedere a livelli 3 e 4, l'utilizzatore di livello 2 mi deve autorizzare, per esempio, tramite un codice che abbia almeno 5 cifre. Quindi un codice da 4 cifre non può essere ammesso se voglio che il mio impianto sia con grado di sicurezza numero 2 e possa consentire l'accesso ai livelli di accesso 3 e 4. Per quanto riguarda poi la parte relativa all'inserimento e al disinserimento, giustamente la norma ci dice che deve essere ottenuta mediante azione autorizzata, certo, quindi tramite codici o chiavi o quant'altro, riconoscibili dal sistema. Attenzione a una cosa, la norma dice che la procedura di disinserimento non deve durare più di 45 secondi. Quindi attenzione a dove si vanno a collocare le apparecchiature che consentono il disinserimento, perché se il percorso per arrivare a queste apparecchiature richiede più di 45 secondi, perché è molto lungo, articolato, è nascosto, devo andare nel piano di sotto, è chiaro che rischio di non poter dichiarare l'impianto eseguito secondo la normativa. Ora, altri esempi. La norma dice che l'inserimento del sistema deve essere impedito in presenza di una o più condizioni indicate nella tabella successiva. Per esempio, se un rivelatore di intrusione è in condizioni attiva, è obbligatorio che l'inserimento sia bloccato. Quindi quando qualcuno vi dovesse chiedere, ma io voglio poter inserire anche se ho la finestra aperta. Certo, è ammesso, ma attenzione, in questo caso il sensore della finestra io lo devo disattivare, in questo caso non risulterà più parte attiva, allora sì che l'impianto potrà essermi ammesso, potrà essere inserito, altrimenti è giusto che l'inserimento ne venga bloccato. Questa è una condizione normativa, come potete vedere. E via così per quanto riguarda altre opzioni. Ad esempio, se qualcuno dovesse chiedere che, al contrario invece, il blocco dell'inserimento deve essere attuato anche se un sensore è accecato. Allora, questa è una richiesta assolutamente lecita, però è bene sapere che se guardiamo la terza riga, per esempio per il grado di sicurezza 2, è opzionale che il blocco avvenga. Non siamo tenuti obbligatoriamente a fornirlo in quanto costruttori e voi come installatori o progettisti. Questa tabella la lascerei perdere, anche se ormai è passata, ma suggerisce questa. Allora, per quanto riguarda i messaggi di allarme, iniziamo a identificare la leggenda. M vuol dire obbligatorio, OP vuol dire opzionale, NP vuol dire non permesso. Per esempio, per un impianto che abbia grado di sicurezza 2, un messaggio di intrusione a impianto inserito da parte di un allarme acustico esterno è obbligatorio. Attenzione, obbligatorio se prevedo la sirena esterna. Voi direte, perché prevedo la sirena esterna e non lo attuo? Beh, appunto, se prevedo la sirena esterna sono obbligato a dare questo tipo di segnalazione. Però, aggiungo questa informazione, non sempre è obbligatorio prevedere la sirena esterna. Vedremo tra poco quando è il caso di prevederla, quando è obbligatorio prevederla e quando invece posso anche farne a meno. Anche se può sembrare un controsenso, diciamo come un impianto di intrusione che non abbia la sirena esterna che impianto è. Invece vedrete che non in tutti i casi è obbligatorio prevederla. Altra tabella, per quanto riguarda le indicazioni da fornire. Voi vedete che troverete sempre riquadrati, ma è solo a titolo di esempio, le colonne che sono relative al grado di sicurezza numero 2. Ma ripeto, è solo un esempio per poter fare appunto dei riferimenti. Allora, per esempio, l'indicazione del singolo rivelatore di intrusione per il grado 2 è assolutamente opzionale. Poi, se la si vuol prevedere o se la si vuol richiedere, come al solito è lecito, ma non si deve dire che un impianto non può rispondere, per esempio, al grado 2, se non mi viene segnalato il singolo rivelatore di intrusione. Mentre, ad esempio, è obbligatorio prevedere se l'impianto è inserito o parzialmente inserito, o se è disinserito, o se c'è una condizione di allarme e via così. Quindi ho fatto degli esempi, ho preso questo ad esempio, quello del singolo rivelatore, perché è una cosa che normalmente viene richiesta, ma ripeto, non è obbligatorio farla, non sarebbe obbligatorio farla. Poi, come al solito, tutto quello che si fa in più, chiaramente ben venga, ma quello che voi dovete sapere è che non va richiesto come un qualcosa che siete obbligati a dare, in quanto le norme lo prevedono, perché così non è. Disponibilità delle indicazioni. Allora, vediamo in questa tabella che indicazioni devono essere disponibili al livello di accesso 1. Ricordo che il livello di accesso 1 è quello che consente l'accesso a chiunque, quindi non solo a chi deve utilizzare l'impianto, ma proprio a chiunque. Allora, che l'impianto sia inserito o parzialmente inserito, facciamo sempre riferimento al solito grado di sicurezza 2, è opzionale dare l'indicazione se l'impianto è inserito, così come opzionale darla se è disinserito. Quindi non è che tutti devono per forza sapere se l'impianto è inserito o disinserito, è una scelta. Sto parlando di tutti, ripeto, non chi lo gestisce. Così come altre indicazioni, quindi poi naturalmente queste tabelle io adesso ve le descrivo in modo un po' sommario, ma poi vi verranno messe a disposizione, come sempre, in quanto la presentazione che vi sto illustrando a seguire e verrà messa a disposizione, come al solito, nelle apposite sezioni di Bticino Academy. Questa tabella, secondo me, è molto interessante. Indica quali sono le diverse opzioni relativamente al fatto che si devono prevedere sirene esterne, WD nel primo elenco di sigla che vi ho presentato rappresenta la sirena esterna, è un qualcosa di sonoro appunto, e ATS rappresenta invece i comunicatori. Facciamo qualche esempio. Allora, prendiamo sempre come riferimento il grado di sicurezza 2. Allora, se io prevedessi una sirena esterna autoalimentata, come spesso sono quelle del sistema antintrusione, bene, dovrei prevedere, ad esempio in questa opzione, perché il grado 2 presenta 4 opzioni, in questa opzione dovrei prevedere anche un comunicatore principale che abbia caratteristiche ATS 2. Allora, la norma, sempre la 50131, identifica i comunicatori con 4 livelli di prestazione a loro volta, che sono identificati appunto con un numero ATS 1, 2, 3 o 4. Naturalmente i costruttori devono dichiarare quali prestazioni garantisce il o i loro comunicatori, quelli di Bticino per esempio sono ATS 2 e ATS 3. Bene, ad esempio, se io scegliessi l'opzione B, devo prevedere una sirena esterna e un comunicatore almeno ATS 2. Se prevedessi l'opzione D, vedete che se io avessi come comunicatore principale uno che ha caratteristiche ATS 3, la sirena esterna sarebbe opzionale. Ecco quindi che la sirena esterna, vedete che in alcune situazioni non è per nulla obbligatoria. Poi, so benissimo che c'è chi la richiede anche semplicemente, magari anche vuota, solo per far vedere che c'è in teoria un sistema di allarme, ma poi in realtà non esiste. Però, per rispettare il dettame normativo, l'interpretazione di questa tabella dice che in determinate situazioni non è necessario prevedere la sirena esterna. A proposito di sirena esterna, la tempistica per la quale va attivata, sempre per seguire le norme, è che deve suonare per almeno 90 secondi e per un massimo di 15 minuti. Quindi, se stiamo al di fuori, in meno o in più di questa fascia di tempo, non stiamo rispettando le norme. Attenzione però, sempre che non ci siano prescrizioni locali che mi dicano qualcosa di diverso. Perché questa è la prima cosa da andare a verificare, perché ci sono città in Italia che per regolamenti locali che preservino dal rumore possono dare e danno in alcuni casi tempistiche più basse rispetto al massimo normativo previsto. Di solito i 90 secondi sono rispettati come minimo, ma i 15 minuti spesso sono notevolmente abbassati. Questo, naturalmente, per non incorrere poi in sanzioni anche spiacevoli. Ricordo, tra l'altro, che in questi casi si rischia addirittura il disturbo della coetà pubblica e il disturbo della coetà pubblica è perseguito addirittura penalmente. Manomissioni. I componenti del sistema antifurto devono comprendere mezzi per rivelare le manomissioni. Ora siamo al solito grado 2, vediamo per esempio che praticamente tutti i componenti devono prevedere accorgimenti che rivelino le manomissioni, devono prevedere dispositivi antirapina, rivelatori d'intrusione. Ecco, per esempio, le scatole di giunzione è opzionale che prevedano dei mezzi per rivelare le manomissioni, questo sul grado 2. Se dovessimo andare sul grado 3, invece, sarebbero obbligatorie. Ecco perché questa norma è vero che riguarda prevalentemente i costruttori, ma dà anche delle indicazioni relative all'installazione. Quindi, attenzione, che se noi vi diamo il componente che prevede il mezzo per rivelare la manomissione, ma poi questo non viene connesso, non viene utilizzato, non viene adeguatamente utilizzato, in questo caso il sistema si potrebbe, rispetterebbe il dettame normativo, ma in questo caso sarebbe l'installazione che evidentemente non completerebbe l'opera e non farebbe qualcosa evidentemente di corretto. I tipi di manomissione da rivelare, poi, d'accordo che venga prevista la metodologia e il mezzo, ma per esempio, sempre per il grado 2, bisogna rivelare, se aperto con mezzi normali, anche la rimozione dal montaggio, attenzione, solo per i rivelatori senza fili, mentre, ad esempio, la penetrazione per quanto riguarda la sirena esterna, la rivelazione della penetrazione è opzionale, non è obbligatoria e spesso viene richiesta, invece, siamo sempre lì, così come la penetrazione per quanto riguarda, ad esempio, CIE sarebbe la centrale, ATS il comunicatore, vedete, sono tutte opzionali se parliamo di grado di sicurezza 2, quindi non sempre certe cose è obbligatorio fornirle. Altra cosa, un sistema per essere sempre dichiarato secondo la norma, con un determinato grado di sicurezza, deve avere dal grado 2 in poi anche una certa capacità di memoria per quanto riguarda il numero di eventi e anche una durata minima di backup per quanto riguarda questi eventi, quindi una durata minima di memoria in cui deve tenere questi eventi. L'alimentazione secondaria, allora, normalmente, è chiaro, il sistema viene alimentato tramite un alimentatore, ma sappiamo benissimo che in caso di interruzione dell'alimentazione è necessario tenere comunque alimentato per un certo tempo il nostro sistema, ovviamente tramite degli alimentatori secondari, tipicamente delle batterie. Ora, normalmente si utilizzano batterie che vengono ricaricate automaticamente dal sistema di allarme. Bene, per il grado 2, per esempio, la nostra batteria deve garantire il tampone per almeno 12 ore. Naturalmente fatte le opportune verifiche in merito a quanto è stato installato. Dal grado 3 in su si parla di 60 ore. Per fortuna, per fortuna, per gradi 3 e 4, mentre le 12 ore in generale non sono un problema, 60 ore è già qualcosa di molto importante, dicevo per fortuna per i sistemi di grado 3 e 4, se c'è un guasto relativo appunto all'alimentazione primaria e questo guasto è notificato a un centro di ricezione allarme o altro centro remoto, quindi praticamente una sorta di vigilanza esterna, la durata dell'alimentatore secondario, in questo caso della nostra batteria, può essere dimezzata. Per fortuna, aggiungo io, perché 60 ore sono qualcosa di particolarmente impegnativo. Impianti di effrazione, antintrusione, norme generali. Qui parliamo di norma CEI. Ora, dovremmo sapere, però è sempre bene ricordarlo, che qualora esista una norma europea, su un determinato ambito, su un determinato tema, gli stati membri hanno innanzitutto l'obbligo di recepire ed applicarla, ma poi hanno un altro obbligo, quello di non redigere altre norme sullo stesso tema se queste altre norme vanno in contrasto, integralmente o anche in alcuni aspetti, con quella europea. Possono però farlo nel momento in cui, non andando in contrasto, forniscono ulteriori indicazioni che, come si può dire, arricchiscano, implementino, completino quella europea. E secondo me è quello che quella italiana ha fatto in questo caso. Ora, quella italiana, se andiamo bene a vedere l'ambito applicativo, è destinata a progettazione, installazione, esercizio e manutenzione e va a prevedere, scusate, va a prevedere, a determinare quello che è il livello di prestazione dell'impianto. Dice, ma c'era già il grado di sicurezza? Sì, ma qui iniziamo a parlare di impianto, quindi un qualcosa di più completo che dice giustamente è frutto sia della scelta dei componenti, sia della sua architettura e conformazione. Quindi, per andare a determinare questo livello, potremo seguire due strade che tra poco vedremo. Un metodo matematico o un metodo tabellare. La norma in questione, la 79.3, descrive quattro livelli di prestazione. I livelli sono esattamente quelli che vedremo tra poco. Ora, per arrivare a determinare un livello, però, andrebbe fatta, questo non lo dice la norma, ma un criterio generale di chi fa valutazioni impiantistiche, andrebbe a fare un'analisi della valutazione dei rischi, dove la formula più semplice è questa. Il rischio è dato dal prodotto della frequenza di accadimento dell'evento, dal 10 al 100%, moltiplicata per l'ampiezza del danno, da 1 a 10, cioè l'entità del danno. In base al risultato possiamo ritenere il nostro rischio inaccettabile, indesiderabile o accettabile. Quindi rischio basso, medio, grave, a seconda del risultato numerico relativo, appunto, a quella considerazione che abbiamo fatto poc'anzi. Perché il rischio basso, medio, grave ci consentirà poi di scegliere il nostro livello di prestazione. Però, per arrivare a capire se il danno, piuttosto che la sua frequenza, sono importanti o meno, dobbiamo prendere in considerazione tutti i seguenti aspetti che non riguardano solo ciò che dobbiamo proteggere, cioè i beni, quindi che tipo, il loro valore, il loro volume, piuttosto che lo storico dei furti, il pericolo, ma anche come è fatto l'edificio, quali sono le sue aperture, quanto è occupato, chi ha le chiavi, dove si trova, lo storico dei furti, se ci sono delle leggi locali, l'area in cui si trova, se è più o meno sicura, se ci sono dei fattori influenzanti interni, qui anche per scegliere la tecnologia, magari tubi per l'acqua, se c'è della climatizzazione, illuminazione, interferenze, se ci sono degli animali, piuttosto che fattori influenzanti esterni, quindi a lungo o breve termine, piuttosto che condizioni atmosferiche o disturbi da radiofrequenza, eccetera, eccetera. Quindi sono tanti i parametri da prendere in considerazione per capire, appunto, qual è il livello di prestazione da chiedere al nostro impianto. Le norme di riferimento, la 79.3, individua quattro livelli di prestazione, tre gruppi di protezione, tre fasce di protezione e tre coefficienti di insuperabilità. Questa è una scelta molto semplice perché sono tre numeri, 0, 0, 5, 1. Ora, per quanto riguarda i livelli di prestazione, la descrizione della 79.3 è del tutto identica a quella che fa la CIN 50131. Io l'ho riportata per comodità, ma non ho fatto altro che copiare esattamente parola per parola quello che c'è scritto nella 50N131. Però faccio notare che, e questo comunque lo fa anche la norma europea, alla definizione di livello c'è associata la descrizione, quindi rischio basso, medio, alto, medio-alto o piuttosto che alto, che è quello che dovremmo poi andare a mettere in confronto, a mecciare, se può dire così, con quello che è il risultato della nostra analisi del rischio. Quindi una volta scelto a questo punto il livello di prestazione che vogliamo attuare dovremmo andare a capire qual è il nostro gruppo di protezione da scegliere, cioè se dobbiamo agire in esterno, se dobbiamo agire semplicemente nel fabbricato o a livello di singolo locale, perché non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo proteggere per forza tutto il fabbricato, per esempio. Dobbiamo anche capire quali sono le fasce da proteggere, se dobbiamo proteggere solo gli accessi, naturalmente come sono fatti, se dobbiamo proteggere le superfici, ovviamente anche queste come sono fatte, oppure se dobbiamo proteggere solo dei volumi, anche questi come sono fatti. Sono tutte considerazioni che la maggior parte vanno fatte poi anche, direi, insieme al committente, ovviamente. i metodi per attuare poi il livello di prestazione scelto, l'1, l'2 piuttosto che l'3 o l'4, devono essere poi seguiti da un metodo che sia tabellare piuttosto che quello di calcolo. Partiamo dal secondo, che vi descriverò brevemente perché non andremo a vedere in dettaglio. Allora, il metodo di calcolo consentirà di utilizzare componenti che abbiano un grado di sicurezza rispetto al livello di prestazione scelto, per esempio ho scelto di attuare un impianto che abbia un livello di prestazione numero 2. Benissimo. Potrei utilizzare in teoria anche componenti che abbiano grado di sicurezza 1, quindi più basso, purché opportunamente utilizzati. E naturalmente tutto questo poi deve fare il paio con un calcolo che vado a fare. Cosa vuol dire? Che posso permettermi di utilizzare componenti che abbiano un grado di sicurezza inferiore perché, per esempio, magari li vado a installare in modo tale che ci siano, che so, delle ridondanze che facciano in modo che a loro volta la combinazione dell'installazione, dei componenti installati, raggiunga un grado di sicurezza equivalente a quello superiore. Diciamo che la cosa non è così semplice. Queste formule sono abbastanza articolarte e complesse, vi posso garantire che non le segue nessuno. Diverso il discorso del seguire una tabella. Seguire una tabella è decisamente molto più semplice. Seguire una tabella parte dal presupposto che innanzitutto se scelgo un determinato livello di prestazione, i componenti devono essere dichiarati con il medesimo grado di sicurezza. Quindi livello di prestazione numero 2, componenti che siano di grado di sicurezza 2. Dopodiché la norma che cosa ha fatto? Ha previsto una serie di tabelle, naturalmente non vincolanti a titolo di esempi, ma che possono essere applicate in modo molto molto semplice in diversi contesti. Per esempio, unità abitativa non isolata. Ci sono in realtà due tabelle, una con accessi praticabili ad altezza superiore a 4 metri e l'altra invece valida per accessi praticabili inferiori ai 4 metri oppure l'ultimo piano. Questo è sempre, parliamo sempre di unità abitative non isolate. Poi ci sarà la tabella per l'unità abitativa isolata, poi ci sarà la tabella per l'insediamento industriale e via così. Vedete qui a titolo di esempio naturalmente ci sono delle indicazioni non esaustive come al solito, però abbastanza semplici da individuare. Facciamo un esempio. Prendiamo quella relativa all'unità abitativa abitativa non isolata. Unità abitativa, abbastanza chiaro, parliamo di appartamento. Perché dico appartamento? Perché qui mi dice non isolata, quindi vuol dire che ragionevolmente non può essere una villetta. Con accessi praticabili ad altezza superiore a 4 metri, a maggior ragione non può essere una villetta, ma aggiungo anche che se fosse un condominio chiaramente questo non può essere un piano terra. Quindi ragionevolmente parliamo di un appartamento ubicato in un condominio che sia come minimo al primo piano. Bene, facciamo un esempio. Parliamo di livello di prestazione 2 e vediamo, a seconda di ciò che vogliamo considerare, quali sono gli obblighi a cui dobbiamo seguire. porte ed accessi perimetrali. O più P. Cosa vuol dire? Andiamo nella nostra leggenda, O sta per apertura. Vuol dire che la mia porta o gli accessi perimetrali, ricordo che stiamo parlando di accessi praticabili ad altezza superiore a 4 metri, devono essere protetti dall'apertura. Quindi tipico sensore, tipico contatto in genere, che mi indica quando questo accesso perimetrale praticabile o porta vengono aperti. Più P. P sta per penetrazione, quindi si tratta di dispositivi che rilevino il tentativo di effrazione, quindi la penetrazione, il danno portato alla superficie appunto di questi accessi praticabili. Ecco, se io attuo questo tipo di protezione, quindi apertura più penetrazione per le porte e gli accessi praticabili, ricordo sempre con altezza superiore a 4 metri, per quanto riguarda le finestre non ho l'obbligo di protezione, per quanto riguarda le pareti non ho l'obbligo di protezione, per quanto riguarda soffitti, tetti e pavimenti non ho l'obbligo di protezione, per quanto riguarda i locali devo effettuare una protezione di tipo T. T sta per trappola, leggiamola insieme, protezione realizzata tramite uno o più rivelatori di solito e volumetrici, secondo metodologia trappola, cioè a protezione dei corridoi e dei locali dove sono contenuti i beni di maggior valore. In sintesi non mi sta chiedendo di proteggere tutti i locali, perché? Perché tutto sommato, da dove posso entrare in quell'abitazione? Posso entrare dalla porta principale? Certo, e già questa l'ho protetta, posso entrare, che so, tramite la porta finestra che dà su un balcone dal quale è facile accedere? Bene, vuol dire che avrò protetto quella porta finestra, quindi in questo caso non è necessario proteggere tutti i locali. Al limite proteggo il corridoio e proteggo, perché da lì ci devo passare e se proprio voglio proteggo appunto i locali dove ci sono i beni di maggior valore. Questa è una possibilità per il livello di prestazione 2, ma volendo io potrei attuare un'altra opzione, sempre per lo stesso livello. Porte accessi perimetrali, solo protezione di tipo O, cioè solo dall'apertura e non dalla penetrazione. Bene, andiamo dove c'è la variazione nella colonna. Per quanto riguarda i locali, non mi basta la protezione T, ma devo effettuare una protezione tipo C, cioè protezione di tipo completo, cioè uno o più rivelatori a protezione dei volumi di tutti gli ambienti dell'unità abitativa. Quindi vedete che la 79.3 mi dà delle indicazioni molto precise rispetto a quella che è la protezione minima, mi verrebbe da dire, perché è chiaro che se anche nell'esempio precedente anziché proteggere solo il corridoio io avessi effettuato la protezione in tutti i locali, diciamo che avrei ecceduto in questo caso, ma in senso positivo. Però vi dice, vi identifica qual è la protezione minima da attuare affinché si possa dichiarare il sistema realizzato secondo le norme senza incorrere negli strali di qualcuno, perché l'altra considerazione che va fatta, direi che questa tabella la possiamo saltare perché è quella presa dalla norma che riguarda sempre la parte delle sirene esterne e dei comunicatori. Dicevo perché abbiamo continuato a parlare di gradi di sicurezza e livelli di prestazione, ma al di là del seguire le norme, la prima domanda che ci dobbiamo porre è perché devo seguire e devo dichiarare o mi conviene dichiarare l'impianto realizzato secondo le norme e quindi secondo un determinato grado di sicurezza o livello di prestazione. Ma allora in realtà il nostro committente non ce lo chiederà mai, praticamente mai. Siamo noi che glielo dobbiamo proporre, dobbiamo fargli presente anche che se lui dovesse stipulare una polizza contro il furto è assai probabile, di solito è così, che l'assicurazione gli possa concedere magari anche uno sconto sul premio che deve pagare sempre che l'impianto sia realizzato secondo le norme e naturalmente non basta dire che c'è l'impianto antifurto o magari in qualche caso basta, ma quando poi succederà il furto sarà l'assicurazione stessa che vorrà indagare e vorrà capire se l'impianto è stato realizzato a regola d'arte e se noterà che non è stato dichiarato oppure è stato dichiarato di un determinato livello e in realtà la situazione meritava un livello superiore, beh allora voi capite che in questi casi naturalmente sono problemi, non solo perché si è subito il furto ma perché oltre al danno poi si rischia la beffa che l'assicurazione non riconosca quel danno, quel furto perché il sistema che è stato dichiarato a protezione del bene protetto in realtà non aveva le caratteristiche adeguate. Quindi attenzione quando si va incontro a queste situazioni. Bene, vi anche questa ve la lascerò. Ecco chiudo la presentazione con queste considerazioni che fanno il paio con la necessità di realizzare l'impianto in modo adeguato, cioè il fatto di avere le adeguate competenze. Ora la 79.3 dedica un intero legato a descrivere le diverse competenze che si dovrebbero avere qualora si vogliono eseguire determinate funzioni, determinate possibilità. Per esempio, le vediamo molto molto rapidamente. Allora, per dichiarare che si ha esperienza professionale occorre essere in grado di esercitare effettivamente la professione. Qui ragionevolmente mi verrebbe da dire basta poter esercitare la cosiddetta lettera B relativamente al decreto 37. Per dire che si è esperti in impianti di allarme, intrusione e rapina bisogna dire che si hanno le conoscenze, l'esperienza, la capacità necessarie per svolgere attività di valutazione del rischio, di progettazione e di validazione del progetto. Per dire che si è esperti anche nella manutenzione e nella riparazione, oltre che nell'installazione, bisogna dire che si hanno le conoscenze, l'esperienza, la capacità necessaria per svolgere attività di pianificazione, installazione, manutenzione, eccetera, eccetera. Così come per quanto riguarda l'organizzazione, i titoli della formazione, insomma c'è veramente di tutto, piuttosto che i servizi che si vogliono fornire. Ora voi direte ma io come faccio a sapere se ho queste caratteristiche o meno? Lo deve decidere qualcuno? Posso deciderlo da solo? Ecco c'è un ultimo passaggio, quindi vado oltre. Eccoci qua. Modalità di valutazione. Ora la 79.3 dice che il processo per valutare quali sono le competenze che ognuno può dichiarare si possono seguire tre strade. Per esempio ci si può anche autovalutare. Quindi sapendo la 79.3 come descrive queste varie competenze, ognuno di voi può benissimo dire io questa ritengo di averla, questa non ritengo di averla, questa ritengo di averla fino a un certo livello, questa invece no. E nessuno può sindacare, è un'autovalutazione, del resto è ammessa. Attenzione però che se diciamo che siamo in grado di fare certe cose, poi naturalmente a tempo debito è possibile che siamo anche chiamati a doverlo dimostrare. Quindi so che dovrebbe essere superfluo da dire, ma è sempre meglio non sottovalutare la faccenda. Oppure, altro metodo, valutazione da parte di un cliente per supportare il processo decisionale orientato alla scelta di un'organizzazione. Cioè in questo caso può essere un cliente che verifica, siccome ha la necessità di fruire delle nostre prestazioni, lui vuole verificare se abbiamo determinate competenze, noi glielo dimostriamo a quel punto di fatto è lui che ci garantisce che queste competenze le abbiamo e naturalmente poi nel tempo possiamo portarci dietro questa valutazione da parte, è vero, di un cliente ma di uno che può, come si può dire, testimoniare che effettivamente queste competenze noi le abbiamo dimostrate. Oppure la valutazione da parte di un ente terzo, me ne viene in mente uno, l'IMQ per esempio. L'IMQ è il tipico ente terzo che tramite una propria indagine può certificare, dichiarare che voi, se voi avete o meno determinate caratteristiche, determinate competenze. Bene, chiudo questa presentazione avendo fatto veramente un'indagine non molto dettagliata però credo sufficientemente curiosa su alcune cose che ci chiede la norma e per sottolinearne l'importanza e anche per capire che effettivamente quando si va su certi ambiti, qui in questo caso non parliamo di sicurezza elettrica, cosa che di solito noi siamo abituati ad affrontare nel mondo dell'impiantistica, ma parliamo di sicurezza di altro genere, però non va assolutamente sottovalutata perché, ripeto, tutto sommato pensiamoci bene, il cliente ci affida la sicurezza dei propri beni, della propria abitazione, tutto sommato per certi aspetti anche un po' la propria sicurezza se vogliamo vedere, quindi non dobbiamo sottovalutare la cosa, non solo dobbiamo scegliere impianti adeguati, componenti adeguati che abbiano determinate caratteristiche, dobbiamo sapere come leggere, come scegliere, ma poi dobbiamo essere noi in grado di progettarli, dobbiamo essere noi in grado di installarli e perché no, anche di manutenerli adeguatamente in modo tale che mantengano nel tempo le loro caratteristiche. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata, vi dono a rivederci al prossimo webinar. Grazie ancora.